Salve, in questo contributo vorrei offrire alcuni spunti di riflessione intorno al tema purtroppo sempre più centrale nel corso dell'involuzione dei tempi della politica. Un tema, come è chiaro, enormemente difficile perché è anche un tema enormemente confuso, un tema su cui si giocano interessi, velleità, volontà, tanti aspetti, non sempre quelli corretti o quelli positivi della nostra specie. E' ovvio che un potenziamento della politica sulla realtà, sul mondo, sulla società, determina una trasformazione, un passaggio dal naturale all'innaturale, dalla vita, dalla vita vissuta, dalla vita naturale, alla vita artificiale, alla vita non artificiale nel senso con cui si intende oggi dei computer, ma nel senso di una vita vissuta all'interno di costrutti socio-politici che non sono i costrutti naturali della specie. Ovviamente qui non vogliamo parlare né del mito del buon selvaggio cui faceva riferimento Rousseau per costruire i suoi modelli politici, né di uno stato di società, quantomeno né di uno stato di anarchia. Il punto che, a dire il vero, è fondamentale che si continua a dimenticare volontariamente o per dolo e che la natura precede tanto l'uomo quanto la società, dunque anche la politica. L'uomo naturalis, e questa è una discussione sulla quale si sono interrogati per millenni studiosi diversi di paesi, di culture molto lontane tra loro, in modi molto diversi. Ma, vedete, la tradizione giudeo-cristiana, che comincia con la Bibbia, nel senso, come sapete, io la definizione giudeo-cristiana la trovo inadeguata, è giudeo-greco-cristiana, sarebbe più corretto dire. Ma questa tradizione comincia con il testo biblico e con il testo del Genesi, dove c'è un uomo naturalis, Adamo, l'Adam e l'uomo naturalis per eccellenza, che vive non soltanto nel pieno contesto della natura, ma il testo del Genesi dice che la lingua di Adamo era capace di nominare le cose e gli animali secondo il loro proprio nome. Questa frase che poi ha dato luogo, e ancora oggi dà luogo a moltissimi discorsi e molte interpretazioni, perché noi vediamo, o quantomeno una certa tradizione, vede in questo un discorso nominalista secondo cui la cosa ha un suo nome assoluto che Adamo conosce. Cioè non è il nome più come una semplice convenzione, io posso chiamare la neve in italiano, in francese, in tedesco, ma non cambia la natura della neve, ma cambia sempre il nome. In queste interpretazioni si ritiene che il nome con cui Adamo nomina la neve è il nome con cui è il nome della neve, diciamo. Un discorso complesso, ma non è quel discorso che vogliamo fare. In realtà però, poiché Adamo è l'homo naturalis, egli nomina la realtà delle cose. Ma questa realtà che Adamo nomina è un'evocazione che è appunto tutta una serie di componenti magiche, spirituali, eccetera, eccetera. Quando noi ci muoviamo da quel mondo in cui Adamo ha un rapporto che noi possiamo dire uno ad uno dove non c'è nel paradiso terrestre l'idea, il mito del Genesi, l'idea di questo stato pre-reale, pre-premondano potremmo dire, c'è il rapporto assoluto tra natura ed essere umani. Ancora Platone ripeterà, come abbiamo detto già in altre circostanze, che noi siamo natura. Quanto più però avanziamo nello sviluppo delle società, tanto più avviene un distanziamento tra essere umano e natura. noi viviamo forse nel diciamo nei paesi detti tecnologicamente avanzati, ma che in realtà sono tecnologicamente dominati, viviamo nello stato di massimo distanziamento dalla natura, di massimo distanziamento possibile dalla natura. e questo è un distanziamento che già noi possiamo vedere anche all'interno delle nostre vite personali, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i quali avevano un rapporto completamente già, a distanza di una o due generazioni, avevano un rapporto radicalmente diverso con la natura. pensiamo il rapporto con il cibo, ma sono sicuro che la gran parte dei nonni, di persone insomma nate nel periodo della seconda guerra mondiale, se dunque qualche generazione addietro avevano perfetta cognizione di quando vengono, qual è il mese delle fragole, qual è il mese dei ravanelli, qual è il mese del anche perché appunto era una suddivisione del cibo determinata dai cicli naturali, non si portava il cibo dall'Australia quando in Australia era estate, dunque in modo da avere i meloni a New York nel periodo di dicembre, per esempio. Dunque c'era anche una necessità, un capire, un orientare la cucina, il cibo, tutto un rapporto con la natura che a distanza di poche generazioni si è già perso e è già andato per l'individuo, per la gran parte, ovviamente parliamo della gran parte degli individui contemporanei, andare a procurarsi il cibo significa andare in un supermercato, significa comprarlo impacchettato, plastificato, denaturalizzato, pensate una cosa una differenza piccola però indicativa negli Stati Uniti le uova non è che le uova americane sono prodotte da galline diverse rispetto alle galline europee ma in Europa le uova si possono mettere quando comprate non è necessario si può fare ma non è necessario metterle nel frigo in America è necessario metterle nel frigo perché le uova dopo essere state prodotte passano da un procedimento da un processo in cui viene spruzzata non so se acqua o altri qualche disinfettante che elimina tutte quelle cose che rimangono sul guscio dell'uovo tutte quelle impurità in Italia si può comprare un uovo e magari a volte c'è anche un pello di gallina una piuma di gallina in America non è possibile sono perfettamente pulite lisce ma questo determina la necessità di doverle sempre conservare al freddo perché il guscio perde molte delle sue capacità di difesa che invece ha nel momento in cui non viene trattato faccio un esempio proprio uno dei tanti generali che mi vengono in mente così perciò non soltanto il nostro rapporto con con la natura è alterato ma anche il rapporto con il cibo tutto viene inquadrato all'interno di quella che abbiamo già ripetuto spesso la scuola di Francoforte chiama il mondo amministrato un mondo in cui tutto è sottoposto a controllo tecnico tutto è sottoposto a processi vedete è un po' quello tra virgolette scandalo che alcuni trovano che ha anche motivato la separazione della Gran Bretagna dall'Unione Europea in cui l'Unione Europea si preoccupa di determinare quanto latte ci vada per fare la cioccolata sapete tutte queste norme di cui i burocrati in qualche ufficio di Bruxelles si occupano per creare una società sempre più amministrata sempre più determinata da regolette fino nei punti più estremi più capillari più profondi e questa è anche una conseguenza naturale dell'interpretazione politica che è stata data all'Unione Europea ossia quella di un superente amministrativo non di un ente in cui democraticamente ogni nazione va a dibatte discute argomenta litiga e poi emergono dei discorsi ma è stato invece interpretato come un superente lo stesso processo si è iniziato a fare nelle varie politiche locali innanzitutto cominciando ad attaccare concetti come la sovranità ma adesso avendo anche depotenziato il Parlamento della sua facoltà dibattimentale voi pensate è così ridicolo innanzitutto vedere questi signori all'interno dei parlamenti imbavagliati già è un segnale segnale mostruoso ma vedere a volte in queste audizioni alla Camera o al Senato questi poveretti ai quali vengono dati tre minuti per fare un'obiezione una mozione una domanda esprimere un concetto tre minuti il tempo che è una funzione dell'amministrazione che è una funzione di una società amministrata che domina sul discorso che domina sul pensiero la radicalità dell'umano che si esprime appunto nel pensiero e nel sentimento che una volta erano sopra il tempo e che adesso sono soggiogati al tempo ma non è una cosa nuova il modo attraverso cui questo depotenziamento del senso del linguaggio del contenuto si esprime ad esempio nelle scuole e nell'interruzione ordinata obbligatoria categorica della campanella anche se tu sei nel mezzo di una spiegazione che potrebbe servire a quegli studenti per il resto della loro vita magari un pensiero che stavate facendo insieme un discorso che arriva alla mannaia della campanella e dice il tempo della società amministrata è superiore al pensiero è superiore al discorso sono cose che noi non notiamo che ormai non si notano più perché a partire dall'invenzione di orologi che potessero misurare il tempo con una certa precisione e dall'avvento della società macchinale sia nell'ottocento quando le persone vennero portate dalle campagne nelle città per lavorare dentro questi luoghi pieni di macchinari che si chiamano fabbriche i luoghi in cui si fabbrica uno dei criteri fondamentali era quello di sottoporre gente che era abituata a vivere secondo ritmi naturali dell'alba e del tramonto alba, mezzogiorno e tramonto sottoporli al ritmo il primo il primo tiranno delle società tecniche che il tempo che nelle fabbriche si esprimeva con le sirene che determinavano l'inizio del turno la fine del turno vedete tutto questo e qui prendiamo solo due o tre elementi determina un contesto in cui l'innaturalità domina in cui il soggetto l'individuo non è un caso che Pavlov abbia utilizzato per i suoi esperimenti sui cani sull'indottrinamento dei cani una campanella Pavlov dava da mangiare al cane facendo suonare una campanella poi si rende conto che il semplice suono della campanella produce già nel cane la salivazione anche se non c'è il cibo questo si tratta è un modo per costruire per stabilire per creare nell'essere umano degli automatismi e queste tecniche queste possono arrivare a livelli parossistici estremi negli eserciti ad esempio quando io ero soldato il mio colonnello diceva che ci insegnavano ad obbedire a dei rigidi automatismi pensate la frase che chi non è che non ha conoscenza dell'ambito militare non non conosce ma l'attenti per un civile l'attenti è semplicemente una frase attenti mettersi in piedi ma nel contesto militare l'attenti è sempre costituito da due fasi non soltanto nell'esercito italiano nell'esercito americano quasi tutti gli eserciti moderni organizzati hanno questa divisione dell'attenti che consiste di due parti att avvertitivo tenti esecutivo questo è un modo pavloviano per insegnare all'essere umano ad obbedire come diceva il colonnello a dei rigidi automatismi perché tu non non hai più la capacità di tu non pensi più esegui si faceva uno scherzo alcuni sciocchi facevano questo scherzo a quei poveretti che stanchi sfiniti andavano a volte a dormire si buttavano nel campo di piazza dei miracoli a Pisa e gli andavano vicino e gli sussurravano mentre quelli dormivano all'orecchio attenti quello dal sonno dal sonno profondo o leggero quello che volete scattava in piedi mentre dormiva per dire come queste queste tecniche questi metodi funzionano adesso ad esempio le persone si sono abituate a dover mostrare un un passi prima di poter fare operazioni normalissime della vita civile ma questo cosa significa tornando al tema politico che la politica è entrata dentro la è entrata dentro la vita del cittadino non si è limitata come diceva Camus con quella bellissima affermazione vedete Camus in quanto grande pensatore anche politico quando una volta gli chiesero ma secondo lei la politica che ruolo deve avere nella società lui disse la politica è come una che è una persona che tiene ordine in cucina se quella persona tiene ordine tu non ti accorgi che c'è ma se tu entri in cucina una mattina ed è tutto a suo quadro tu ti accorgi che quella persona non ha fatto il suo dovere o lo sta facendo male o sta facendo chissà quali cose e lui diceva la politica dovrebbe avere il compito di tenere in ordine la cucina non di metterla a suo quadro non la mattina prima di entrare in cucina che ti chiede di mostrare un passi non che ti obbliga a che tipo di colazione dovrai avere perché ti fa bene cioè la politica non ha il compito la politica democratica non ha il compito di sostituirsi alla libertà e questi sono discorsi vedete non è che qui questi sono discorsi classici delle teorie del liberalismo della democrazia non c'è nulla di nuovo in questi discorsi tra l'altro tra l'altro noi conosciamo molto bene i problemi verso cui questo tipo di questo sobbillamento delle regole democratiche porta li conosciamo fin troppo bene dalla storia però abbiamo deciso di chiudere la porta al passato di dimenticare la storia abbiamo deciso che abbiamo deciso appunto la campanellina di Pavlov qualcuno è riuscito a far perdere la testa alla società che aveva già perso la testa da prima qui un inciso un inserto proprio quest'anno adesso è stato rilasciato anche per la versione per la visione privata è uscito questo film con un attore famoso quello che ha fatto fa molti film ha un cognome italiano comunque il film si chiama Don't Look Up non guardare in alto proprio uscito adesso quest'anno nel 2021 ed è una storia io non ho visto il film per intero perché è un po' scoccia però diciamo ho visto i primi 40 minuti forse ed è la storia di un meteorite non lo dicono una cometa che arriva che una dottoranda di astrofisica ed un professore dell'università del del Michigan rilevano e avvisano ovviamente la NASA il presidente questo e l'altro e il presidente non riesce che in quel caso è una presidentessa non riesce a capire neanche il discorso dice aspettiamo vediamo quelli dicono guardate che tra sei mesi se non facciamo niente questa questa cometa colpirà il pianeta ed è finita per tutti e loro non riescono neanche a capire la gravità la cosa più divertente del film e che poi cosa fanno questi vanno anche in televisione provano a comunicare con il cittadino con quello che quello che evidentemente è diventato pandemente ed è bellissima questa scena in cui sono in televisione e vengono messi alla fine di un programma sciocco dove si parla di gossip di di attrici di attori di tradimenti quella roba non lo so pensate quello che in italia sono appunto tutte quelle trasmissioni la moglie di costanzo e queste altre cose e questi alla fine di questo programma dove c'era stata questa ballerina attrice cantante qualcosa di questo genere che racconta del tradimento del fidanzato pianti commozioni le scene che sono ormai comuni diffuse in qualunque paese se si accende questa scatoletta si vede questo stesso modello di comunicazione che sembra un modello di intrattenimento ma in realtà è un modello di distruzione del cittadino di annientamento della razionalità di uno schiacciasassi è un nemico inimmaginabile però intrattiene fa perdere tempo ebbene questi alla fine mi è sembrato strano che un film di queste proporzioni con questi attori con questo budget facesse vedere una cosa così un po' è una variazione rispetto a quel bellissimo film che era Idiocracy però Idiocracy è fatto una grande parodia questo è anche un film comico satirico però dà un colpo al cerchio e un colpo alla botta io ho smesso quando poi anche l'astrofisico diceva parlava del cane e cose così ho detto vabbè lasciamo stare perché poi devono infangare tutto il compito dell'industria culturale è quello di infangare tutto siamo tutti persone che pensiamo tutto il giorno a cosa mangeremo a che ferie faremo a che come potremo non c'è altro è come se l'esistenza umana fosse vissuta fosse scaduta fosse cascata vi ricordate il pozzo di Talete un pozzo infinito ebbene in questa trasmissione nel film questi provano a spiegare dicono se in sei mesi un meteorito una cometa colpirà il pianeta ed è finita per tutti se non facciamo qualcosa e quelli non riescono a capire il contenuto della dichiarazione dei due scienziati non lo capiscono non riescono a comprendere la gravità di quello che stanno dicendo forse avrebbero dovuto dire un virus a bassa mortalità allora sarebbero scappati tutti dallo studio e questo mi sembra che in realtà è un prodotto dell'industria culturale sarebbe interessante capire quali motivi hanno determinato questa forse dovrei vedere il film fino alla fine per mi ci sottoporrò uno di questi giorni e è interessantissimo perché al di là del fatto che fa capire che si è coscienti di quanto sta avvenendo nel film in questo film ci sono un sacco di riferimenti tipo siccome questo è un professore di una piccola università del Michigan allora la Casa Bianca vuole una conferma da parte dell'Ivy League e ancora lì la scienza ancora lì esiste perché esistono delle validazioni da parte di altri accademici che confermono un fatto scientifico oggi sappiamo che anche quello è un po' traballante come discorso è diventato e poi ovviamente ecco ho anche smesso di guardarlo perché poi la soluzione che volevano proporre era quella di mandare la solita cosa che si vede in molti film delle destate nucleari contro una cometa che è una sciocchezza in mano per fermare una cometa è come dire che io voglio fermare un proiettile di mortaio pesante con dei fuochi d'artificio quelli per bambini gli mando un fuoco d'artificio e devio un proiettile di mortaio pesante non gli faccio niente perché l'energia cinetica e l'energia la velocità e energia anche sappiamo e di di un qualcosa come una cometa non gli manca se gli mandi dieci bombe atomiche è come appunto mandare un petardo contro un proiettile di mortaio diverso sarebbe con delle strategie delle diverse testate posizionate insomma ma non era questo il tema e questo discorso che oggi noi vediamo nel film lo vediamo in maniera satirica ma lo vediamo anche nella realtà attuale avete visto i tre scienziati come dei barboncini che che cantano jingle bells fa capire appunto che sono persone che sono disposte a fare disposte a pur di stare su quello schermo che chissà cosa pensano gli dia questo schermo invece di capire che è una cosa dalla quale è bene stare lontani quelli farebbero di tutto per starci dentro come appunto quelli che come non so gli influencer questa che la pandemenza è anche è anche un prodotto di una società che come ricordava pensate negli anni 30 questo testo è del 1936 di un che credo che molti conosceranno di Huizinga questo grandissimo intellettuale olandese e che visse la sua coerenza nonostante le avversità dell'epoca problemi che ebbe con i nazisti con la gestapo ma in questo testo uno degli elementi che Huizinga o Huizinga insomma non lo parlo purtroppo evidenzia è quello stesso punto che poi anni dopo dopo la guerra riprenderà anche Adorno nella frase che abbiamo spesso citato sul declino uno dei problemi della nostra società derivanti dal declino dell'evidenza logica come tale Huizinga nel capitolo ottavo dedica proprio un capitolo intero al tema del declino dello spirito critico lo leggo in inglese perché la mia edizione è in inglese come dicevo non ho un'edizione in olandese guardate cosa scrive Huizinga nel 1936 pensate la differenza enorme 1936 oggi facciamo pelle senza considerare il generale indebolimento del giudizio che abbiamo discusso in precedenza nei capitoli precedenti c'è anche una c'è anche motivo di parlare anche dell'indebolimento dello spirito critico un declino delle capacità critiche una una considerazione diminuita rispetto alla verità molto interessante questo punto cioè tanto Huizinga quanto Adorno ed altri vedono nel declino delle capacità critiche delle capacità razionali ma anche della considerazione per la verità una delle ragioni che motivano il declino della società contemporanea attenzione Huizinga non è Spengler Huizinga criticava Spengler pensava che Spengler con l'idea del tramonto dell'occidente fosse eccessivamente drammatico ma tanto Huizinga come molti altri autori evidenziano proprio questa questo declino del rapporto con la razionalità lo spirito critico e la verità guardate che questi sono tre fattori che noi incontriamo in questo momento costantemente facevo vedere quel quei dati che ho anche mostrato in questo video rispetto alle ambulanze che nel 2019 sono in Bavadia inferiori rispetto alle ambulanze nel 2020 anno della grande trasformazione anno del grande come il titolo del libro di quel signore di Raffensburg è una cosa che per qualunque persona razionale risulta evidente non è possibile che se tu hai una situazione così drammatica hai un numero minore di trasporti di ambulanze allora poi le pseudo spiegazioni le persone sono rimaste a casa tutto quello che volete ma abbiamo già fatto questo discorso anche se sono rimaste a casa anche a casa succedono incidenti anche a casa succedono gli infarti anche a casa la gente si rompe una gamba cioè quando tu hai un numero che è così inferiore vuol dire che sì ci sarà stato ad esempio ci sono in meno gli incidenti stradali tutto quello che vogliamo e manca quella grande tragedia che sta provocando tutti questi sommovimenti politici manca dai numeri eppure se tu fai vedere questi dati a un pandemente o qualcuno persino il numero persino la matematica viene interpretata per giustificare l'inganno a cui si è stati sottoposti vi ricordate la sioma di Twain è più facile ingannare una persona che non convincerla che è stata ingannata e questo se noi lo andiamo ad inserire anche nel discorso di Zinga che lui fa nel 1936 adesso nel 1936 non è davvero così fuori luogo come discorso anche se la società aveva una solidità culturale immensamente più grande rispetto alla società contemporanea immensamente cioè non c'è il paragone tra l'intelligenza degli anni 30 20 30 dello scorso secolo e l'intelligenza oggi non si può neanche porre voi pensate come si chiama quel tipo quel tipo che ha scritto anti-fragility Tahar Bejalun credo si chiami e questo qui ha scritto un libro che si chiama anti-fragility cioè che bisogna essere meno fragili insomma avere meno paura meno meno e poi è un pandemente e avvengono cose in questo momento che appunto sono il prodotto di una società in cui la politica intesa nel senso più deteriore nel senso di manipolazione propaganda controllo da parte di sistemi oligarchici non una politica democratica è entrata nella cucina è messo tutto sotto sopra e sta anzi utilizzando le sedi della socialità grazie a quest'opera già di distruzione che era stata fatta del ragionamento del pensiero ma voi pensate io vi chiedo quando è stato che avete sentito in una di queste televisioni generaliste anche quelle pagate con i soldi vostri da contribuenti che siete obbligati a pagare in Italia tramite la bolletta della luce quante volte avete sentito parlare di usinga lo dico io zero volte già qui noi potremmo chiudere il discorso perché è evidente che un cittadino a cui mancano tutti questi strumenti per poter analizzare criticare analizzare criticamente vedete il declino dello spirito critico la società sarà un cittadino a cui se domani gli volessero dire che la terra che il modello dell'universo è geocentrico che ci sono i fantasmi dopo la mezzanotte io sono sicuro che questo del resto l'abbiamo già detto spesse volte ed è una statistica che io ho letto non so quanto attendibile ma dicono che ci sono oltre in questo momento nei paesi occidentali oltre 25 milioni di persone che credono nella terra piatta e perciò esiste già un sottofondo di completo abbandono culturale di completo abbandono mentale di incapacità di valutazione razionale del mondo e se questa incapacità di valutazione può arrivare fino a può partire dalla terra piatta dalla terra piatta alla pandemenza c'è tanto ancora c'è tanto spazio da riempire e questo si lega a moltissimi fattori sempre Huizinga scrive qualche pagina dopo ma dove parla appunto anche vedete un libro scritto nel 36 che può essere anche applicato a quella che oggi la la civiltà del Gsmart delle persone che attraverso il telefonino prima non sapevano due minuti prima non sapevano una cosa mi ha colpito molto una interrogazione parlamentare in Australia in cui uno dei un signore cercava di argomentare contro quest'idea che esiste la scienza che la scienza sia un monolite dogmatico mentre la scienza è fatta di dubbio è fatta anche di errori è fatta di tantissimi qualcosa di estremamente complesso e citava a questi signori quel famoso studio di cui abbiamo anche parlato alcune volte di Alan Sokal la famosa beffa di Alan Sokal facendo vedere questo è stato pubblicato un testo che era inteso proprio per prendere in giro con estrema serietà si è ritenuto che fosse una cosa in cui la scienza invece era una bagianata il tizio che dall'altra parte pretendeva di rispondergli non sapeva chi fosse Sokal non sapeva della beffa di Sokal che cosa ha fatto aveva il telefonino ha guardato due minuti ha letto un sommario su Wikismart e subito ha cominciato ad argomentare due secondi 20 secondi prima non aveva idea di che cosa fosse 25 secondi dopo aveva già un'opinione sono cose che fanno rizzare i capelli per chi un po' vuole ragionare però sono cose che noi non notiamo più anzi diciamo guarda quanto è bravo l'ha visto così nel telefonino e chi è Giordano Bruno Giordano Bruno una volta fece una butade così durante una disquisizione una di quelle diatribe tra intellettuali di fronte al re in cui uno citava il libro e lui diceva io non posso rispondere perché non ho letto il libro citato ma peccato ma se ce l'ha posso leggerlo e così ne parliamo quello dice vabbè ma che facciamo aspettiamo qui un paio di giorni no no mi dia il libro Giordano Bruno sfogliò il libro e poi una mezz'ora dopo era pronto a rispondere ma cose diverse ovviamente e non soltanto questo voleva controbattere un tema sul quale fino a pochi secondi prima non sapeva nulla e questo vedete è qui Huizinga scritto nel 36 quando non c'era internet scrive ma dove l'individuo saggio sapiente Giordano Bruno come dicevamo per esempio di Giordano Bruno attraverso una capacità di giudizio libera e più ampia libera e più ampia vedete ampiezza e libertà trova un senso ancora più profondo nelle cose e nella vita lo sciocco guardate come è bello trova in questa libertà soltanto una maggior licenza per un più grande per più grandi assurdità verso più grandi assurdità lui dice la stessa cosa come dice come dire la stessa penna messa in mano mano ad uno sciocco o a uno che prova a capire come ovvio produce risultati diversi quello ti scrive oggi mi sono alzato ho fatto colazione poi l'altro invece dice ti parla delle strutture dell'universo molto bella questa osservazione molto bello anche il testo per chi non lo ha letto lo consiglio profondamente qui vorrei semplicemente una piccola pausa una piccola pausa insomma un piccolo inserto su questo perché purtroppo sapete il tempo è quello che ci sono tantissimi libri che io vorrei suggerire presentare allora magari ogni tanto ne mettiamo due tre questo ci ho pensato perché questo è un libro che volevo presentare ormai da tanto tempo e non ci riesco perché purtroppo ci vuole il tempo per fare queste cose ma è un testo guardate in questo momento un testo fondamentale per la forza senza la ragione ed è un libro è un'analisi dei testi e i bandi della dittatura militare di Pinochet e ci sono delle cose in questo testo appunto loro analizzano dopo che tutto è avvenuto anche le responsabilità intrinse che il rapporto tra dittatura e legge il fatto che le corti costituzionali non abbiano impedito non si siano messe di traverso alla junta militar è un libro piccolo scritto da questi studiosi cileni ma capite che potrebbe essere facilmente tradotto nella situazione paradossale che stiamo vivendo in questo momento e magari un giorno potremo approfondirlo però è davvero un testo anzi se vi fosse qualche editore sarebbe anche un testo breve sarebbe una cosa grandiosa poter tradurre e portare a conoscenza del pubblico italiano questo questo testo dal titolo Por la fuerza sin la razón testo che davvero vale la pena soprattutto per chi si occupa di politica di scienze politiche di analisi storica è un testo fondamentale un altro testo fondamentale questo libro di Carl Jaspers che vedete di Jaspers si trova di tutto dalla concezione della vita nei grandi filosofi di tutto tranne questo libro e poi quello che scrisse l'altro volume che scrisse per rispondere alle critiche che gli erano state fatte questo testo pubblicato da Jaspers nella metà degli anni 60 nel 66 analizza proprio di quelle trasformazioni politiche che già lui mente acuta vedeva nella Repubblica Federale Tedesca nel 1966 anno di grandi anni 60 sapete anni di grande trasformazione del golpe negli Stati Uniti con l'uccisione di Kennedy è un momento fondamentale nella storia del novecento uno di quei momenti fondamentali che vanno per fare esempi grossi dall'assassinio dell'arciduca l'assassinio di Sarajevo a settembre del 39 e poi novembre del 63 e poi l'assassinio Moro cioè ci sono alcune tappe che sono momenti di svolta nella storia e Jasper da grande filosofo da grande pensatore analizza pone la sua mente a questi temi e vedete ancora oggi questo libro di un'attualità impressionante c'è un passaggio qui dove lui dice una via la via verso lo stato autorità un weg über den autoritären stadt zur diktatur führt über eine alparteien regierung und auch schon über die große coalizioni il tema della große coalizione era un tema che c'era anche nei discorsi della repubblica di Weimar eccetera ma lui riprende questo tema e dice una via verso uno stato che dallo stato autoritario la dittatura porta attraverso un regime in cui di tutti i partiti un regime di tutti i partiti in Italia ce n'è solo uno fuori in questo momento attraverso e anche attraverso una grande coalizione cioè lui identifica in questa perversa unione di gruppi che non dovrebbero poter stare insieme uno dell'anticamera di un regime autoritario e poi questi faranno il potere delle oligarchie di partito renderanno il potere delle oligarchie di partito assolute l'opposizione in una forma attiva non ci potrà più essere e dunque nessun pericolo che questo dominio possa essere ribaltato libri del 66 cosa abbiamo fatto noi abbiamo preso una delle più grandi menti del XX secolo ha pubblicato questo libro noi cosa abbiamo fatto l'abbiamo gettato dalla finestra abbiamo detto non curiamoci questo libro è rarissimo è difficilissimo da trovare mentre come dicevo tutti gli altri libri di Aspers ci sono le biblioteche piene come mai perché ha un contenuto politico perché non è attuale invece è attualissimo però sapete sono tutte coincidenze sono solo coincidenze un altro testo che secondo me è da consigliare adesso non so se c'è in italiano una edizione che non pensavo non avrei mai creduto di dover consigliare un testo così ad un audience di persone parlanti italiano cioè di cultura italiana non avrei mai pensato forse se fossimo negli anni 20 30 sì ma nel XXI secolo non avrei mai pensato che un libro così potesse aver senso per degli italiani per altre popolazioni europee sì ma per degli italiani non l'avrei mai pensato questo è il libro del grande 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 psicologo psicoanalista intellettuale Arno Grun che ci manca tantissimo il cui titolo è Wider den Gorsam significa resisti all'obbediente o confuta l'obbediente quelli che che sono obbedienti questo libro spiega perché qual è la psicologia dietro l'obbediente però in Italia una volta ci si faceva vanto di essere disobbedienti oggi si è diventati tutti pecorelli e poi siccome si parla molto spesso anche molto molto fuori luogo del tema della Fabian Society consiglierei è un libro un po' tedioso però è un libro che documenta molto bene l'origine della Fabian Society la contestualizza nella società inglese dell'epoca e magari tempo permettendo potremmo fare anche un discorso su certe idee che oggi sembra sapete si sentono da dietro la dietro la coltre si intravedono ma torniamo al tema della politica poiché e concludiamo su questa andiamo in chiusura poiché come abbiamo detto la nostra è una tradizione giudeo greco cristiana e abbiamo spesso parlato moltissimo forse non quanto meriterebbe ma di quello che Platone ci dice del tiranno di come Platone vorrebbe respingere rigettare il tiranno dalle società nonostante appunto la nostra società lega Platone al contrario curiosamente sono tutte cose curiose tutte cose curiose ma del resto noi non siamo nuovi a leggere le cose in maniera contraria è come dicevamo una società che pensate uno come Berlumponi è quello che va in Europa e dice che nella Costituzione ci deve essere un riferimento ai valori cristiani Berlumponi ma l'ha mai letto il Vangelo non diciamo tutto il Vangelo vai a leggere la parabola del ricco bisogna essere veramente appunto la capacità per la cattiva lettura che noi abbiamo è qualcosa che mind-boggling si dice in inglese che proprio fa uscire di senno ma come dicevamo poiché queste tradizioni antiche hanno qualcosa che noi non comprendiamo che è quel contenuto etico e culturale allo stesso tempo noi ormai abbiamo le culture asettiche abbiamo le dichiarazioni asettiche di quello che vede i confini vede i limes tra una disciplina e l'altra se domani inventano una terza disciplina dice allora io non ci posso arrivare lì perché è appunto come anche un altro sottoprodotto di un mondo amministrato scusate ebbene se noi volessimo tutto quello che noi vediamo tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi pensate in ambito politico pensate il discorso della manipolazione della propaganda Bernese tutto Lippmann la commissione Creel tutto quello di cui abbiamo già discusso ampiamente potremmo sempre tornare a Platone ovviamente Platone diceva che i demagoghi erano tiranno poioi cioè facitori di tiranni perché appunto grazie all'arte che avevano di raggirare le persone creavano i tiranni però vedete tutto questo si pone nel contesto della tradizione greca la quale diversamente anche da altre tradizioni non vede il tiranno come è stato anche spiegato come veniva millantato nel novecento come l'uomo della provvidenza una cosa che ancora oggi avviene il concetto di uomo della provvidenza che era uno degli attributi di Mussolini viene ancora oggi utilizzato chi è l'uomo della provvidenza oggi in Italia quello di cui non si può dire male il nonno degli italiani vedete anche questi attributi sono terribili e pericolosi ma non se ne accorge nessuno sono prodotti quando io da politico da presidente del consiglio chiamo me stesso nonno degli italiani è una cosa è una cosa che le persone dovrebbero scendere in piazza e dire ma cosa stai che cosa ti sei messo in testa il paternalismo è uno dei tratti dell'autoritarismo il fatto di invece di dire io sono il servitore degli italiani ma ovviamente siccome non confessa invece di dire io sono qui per servire il popolo italiano io sono qui per fargli da nonno guardate che sono cose di una gravità enorme e manca quell'intelligenza che possa farle notare e dire guardate che queste cose non si possono fare in un contesto democratico no invece è tutto normale in Germania lo facevano con l'ex fortunatamente adesso ex è come bello dire ex cancelliera non è che quello che sia avvenuto adesso sia purtroppo la politica riesce sempre ce la fa sempre ad andare dal male in peggio ce la fa sempre comunque quella la chiamava l'ex cancelliera tedesca la chiamavano mutti che significa madre sono tratti dell'autoritarismo che entrano nel linguaggio l'uomo della provvidenza e per questo la cultura greca è profondamente convinta che non è il tiranno che crea i servi ma sono per usare un'espressione di Silone ma sono i servi che creano il tiranno e poiché noi parliamo spesso del del lato greco della cultura occidentale però ricordiamoci che c'è anche un lato biblico neo e vetro testamentario cosa ci dice il testo biblico a proposito della politica pensate un testo scritto millennia dietro che ci parla con una chiarezza così limpida così diretta e che ognuno quando avrò letto questo testo potrà subito immediatamente riconoscere in quello che vede nella società e capire anche il testo biblico tanto quanto la tradizione greca spiegano anche perché vi sia una classe politica così insignificante così così nefasta così mettete voi non manca spazio ebbene il passo che io vorrei leggervi viene dal libro dei giudici dal capitolo 9 del libro dei giudici e cosa succede nel capitolo 9 c'è una vicenda come quella che appunto racconta Socrate rispetto all'infelicità del tiranno e qui il tiranno che fa una cosa molto simile è invece Abimelech Abimelech fa uccidere i suoi fratelli e viene e si proclama Obiene insomma riesce a convincere la gente la folla farlo proclamare re e guardate l'argomento con cui comincia il testo c'è tutta una premessa parlò allora la madre era un figlio illegittimo solite storie dei tiranni qualcosa è migliore per voi dice che 70 dite osichemiti qualcosa è migliore per voi che 70 uomini tutti figlioli di Yerubbaal Yerubbaal Baal precedente regnino su di voi oppure che regni su di voi uno solo uomo della provvidenza cos'è meglio che vi siano 70 persone che ve ne sia uno solo la gente la gente pensa forse è meglio uno solo o gli viene detto di pensare non lo so e insomma allora e poi lui era anche uno di loro questo è l'altro si inchinò insomma approvarono questa cosa gli diedero è molto interessante questa cosa gli diedero 70 sicli d'argento che tolsero dal tempio di Baal Berit qui anche qui la Bibbia fa una connessione tra questo individuo assassino tiranno eccetera e Baal è il culto di Baal coi quali guardate come è bello il testo biblico Abimelech sembra sembra la cronaca di adesso assoldò degli uomini da nulla anzi dice assoldò degli uomini da nulla e audaci che lo seguirono degli uomini da nulla a Napoli si dice un po' diversamente ed egli venne alla casa di suo padre a Ofra e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli vedete ricordate nel Platone descrive una storia quasi 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 a fine figlioli di Ierobal 70 uomini e uccise 70 persone su una sola pietra su un solo altare adesso Iotam un altro sovrano essendo stato informato della cosa cosa fece andò sul monte Garizim qui ci sarebbe così tanto da parlare di queste cose ma non siamo qui per parlare di testo biblico e alzando la voce gridò parlò alla gente vedete oppose un messaggio in questo in questo contesto Iotam pur essendo un personaggio nobile è anche colui che insegna infatti insegna dall'alto del monte ascoltatemi Siche Biti e vi ascolti l'Onnipotente e racconta una delle più belle fiabe del potere della politica e della società che esista il racconto procede come segue un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su loro e dissero all'ulivo sapete l'ulivo nell'area mediterranea è uno come poi il re degli alberi regna tu su di noi ma l'ulivo rispose loro rinunzierei io al mio olio che l'Onnipotente e gli uomini onorano in me per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi allora gli alberi andarono dal fico e gli dissero vieni allora tu a regnare su di noi ma il fico rispose loro rinunzierei io alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi sopra degli alberi al di sopra degli alberi per pormi al di sopra degli alberi allora gli alberi andarono dalla vite e le dissero vieni tu a regnare su di noi ma la vite rispose loro e rinuncerei io al mio vino che rallegra l'Onnipotente e gli uomini per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi allora tutti gli alberi dissero al pruno al roveto alle spine vieni tu a regnare su di noi e le spine dissero agli alberi se proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su di voi venite a rifugiarvi sotto l'ombra mia se no esca un fuoco dal pruno e divori i cedri del Libano vedete qual è il senso della uno dei sensi della storia che gli alberi vogliono trovare qualcuno che gli faccia da re ma l'olivo la vite il fico sono tutti produttivi hanno altro da fare hanno hanno già un senso ed uno scopo nella vita non hanno il tempo per andare a fare per porsi al di sopra come dice il testo benissimo agitarsi al di sopra degli alberi vi ricordate cosa diceva Platone a chi dobbiamo dare il potere Platone risponde già a questo lui dice il potere bisogna darlo a coloro che non lo vogliono ma perché non lo vogliono perché hanno un contenuto nell'esistenza che quelli che invece si dibattono ed agitano per l'averlo non hanno se voi leggete le biografie dei dittatori hanno tutti la stessa biografia mutatis mutandis ovviamente l'ambizione questa volontà di potenza questo vedere soltanto il potere questo è sempre un'osservazione di Silone che diceva che il vantaggio che il dittatore che il tiranno ha sul democratico sul politico normale è che per lui esiste solo la dimensione del potere vede solo quello capisce solo quello non ha altro da quello perché non fa olio perché non fa fichi perché non fa vino difficile è difficile trovare una storia alle origini della nostra cultura scritta millennia dietro che renda meglio di questa il nostro presente grazie 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 a tutti